Siamo con Giancarlo Boselli, candidato sindaco per la città di Cuneo con la lista Indipendenti. Buongiorno. Buongiorno. Dunque una sorta di ritorno alla politica dopo gli anni trascorsi con la giunta a Valmaggia, dove peraltro è stato vice sindaco. Ora la corsa per diventare primo cittadino. Chi è oggi Giancarlo Boselli? Dunque Giancarlo Boselli oggi è un candidato sindaco indipendente, che ha una lista che si chiama Indipendenti perché pensiamo che oggi i partiti non siano più degli strumenti validi per fare politica e quindi abbiamo creato un movimento che si basa su un programma concreto che tutti i cittadini possono leggere per le vie della città sul manifesto mio e perché pensiamo che solo un candidato indipendente dalle sale chiuse dei partiti, da gruppi che ormai fanno più che altro i loro interessi, sia in grado di fare i cambiamenti che servono alla città. In cosa è cambiata, se secondo lei è cambiata la città di Cuneo rispetto a quegli anni? Ma direi che i cambiamenti più visibili sono un forte degrado in alcuni quartieri della nostra città. Lo si vede dalla mancanza di pulizia, dalla mancanza delle manutenzioni che fanno sì che i marciapiedi diventino pericolosi per chi ci cammina e dalle scarse manutenzioni generali sul verde perché questa amministrazione non ha più concentrato delle risorse sufficienti per portarle avanti. Una è questa, l'altra è invece che la città ha perso un ruolo di capoluogo di provincia. Non viene conosciuto autorevolezza né alla città né al sindaco che normalmente è anche il presidente della provincia. Il capoluogo deve tornare ad essere capoluogo di provincia e in modo particolare capoluogo di un territorio vasto che è il sud della provincia che è fatto di vallate bellissime, di città interessanti che devono essere tenute insieme e guardare insieme a un futuro che può essere bellissimo perché ha delle risorse enormi da giocarsi. Quindi una sorta di peggioramento. Beh se ci fosse stato un miglioramento mi sarei candidato con l'attuale maggioranza. Una domanda per la quale le chiedo proprio una risposta brucia pelo. La prima cosa da fare se diventa sindaco? È la riforma della polizia urbana. Noi faremo una nuova polizia urbana basata sulla gente di quartiere. Divideremo la città in 20 zone e in ogni zona ci sarà un agente e nei casi in cui serve due agenti che trascorrono lì la loro intera giornata e diventano un punto di riferimento preciso per la popolazione e controllano la zona con efficacia. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie a voi.